Pasqua solitamente è un po' l'inizio della bella stagione e quindi dell'estate. Tremiti come si sta muovendo a Pasqua? Siamo con Rosanna, presidente della Proloco Tremitese. Ciao Gaetano, noi in realtà come tu sai siamo zona rossa quindi siamo un po' vincolati come praticamente tutta Italia però abbiamo pensato comunque di dare un nostro piccolo pensierino ai bambini dell'isola. Abbiamo preso delle uova e spero non lo scopriranno da te. Invece a San Nicola abbiamo preso delle colombe per ogni famiglia quindi giusto per essere vicino anche se lontani ma vicini. Senti la situazione Covid qui sull'isola com'è? In realtà noi siamo anche fin troppo fortunati, diciamo che è Covid free quindi non abbiamo avuto casi però bisogna sempre stare attenti, bisogna sempre mantenere il distanziamento e cercare il prima possibile di fare i vaccini. Adesso hanno fatto, scorsa settimana credo, quelli dai 60 fino agli 90 anni e spero vengano presto che lo facciano a tutti. La stagione ormai è prossima all'estate quindi 2021, la Proloco come si sta muovendo? L'anno scorso è stata un'estate particolare quindi quest'anno siete un po' più preparati a quello che potrà accadere? Sì, questo sì. Naturalmente stiamo facendo degli eventi pensando al distanziamento e alle giuste misure per stare tutti più tranquilli. Non ti voglio svelare nulla in realtà perché sono progetti che spero possano andare avanti spero che per l'estate riusciamo a lavorare come è giusto che sia. Quindi alla fin dei conti buona Pasqua, ci vediamo quest'estate? Assolutamente sì Gaetano, assolutamente sì anche perché come sempre devi dare il tuo contributo, te ne sei scordato.